Ciao, io sono Giovanna. Io ho la sclerosi multipla da 26 anni e un sacco di problemi che risolvo quotidianamente con l'utilizzo di tre taupeg fasic posizionati nei punti a me confacenti. Io riesco ad alzarmi, riesco a camminare senza appoggio, adesso ve lo farò anche vedere, e riesco ad avere un'operatività casalinga, quotidiana, pressoché normale. Senza i taupeg non potrei farlo. Non so, mi lavo la doccia, mi faccio la doccia in piedi, lavo i piatti in piedi, mi lavo i denti in piedi, faccio tutto quanto come se non avessi i miei problemi, quotidianamente. Sicuramente la patologia non va via, però io riesco a bypassare seriamente tutti i problemi con l'utilizzo di questi tre taupeg fasic, che per me sono la vita. Allora, io li ho sentiti nominare dall'applicatore che tuttora, ogni volta che scadono, me li viene ad applicare, Francesco, che è una persona molto seria, un infermiere professionale, scienze infermeristiche, insomma, applicatore certificato. Cosa dire del dottor Fontana, che ho avuto il piacere di parlare telefonicamente con lui, io non posso che complimentarmi per questa iniziativa magnifica, stupenda, che risolve tantissimi problemi a tante persone tutti i giorni, e soprattutto ci ridà dignità a migliaia di persone, dignità nella vita di tutti i giorni. Vi faccio vedere come mi alzo senza appoggio, io mi posso alzare, mi giro, posso camminare, mi posso anche piegare, sollevare, posso fare tutto normalmente come se io non avessi il mio problema. Vi faccio vedere solamente dove ne ho applicato uno, uno dei tre, e applicato qui. I punti sono, sono dei punti energetici specifici per la mia problematica, poi ce ne sono tanti altri per risolvere anche altri problemi. Io spero che molte persone che vedono questo video siano incoraggiate a provare, per vedere se anche loro possono risolverlo. Vi saluto, ciao!